Tragedie nella tarda mattinata di oggi a Lingueglietta, frazione di Cipressa, nell'entrotera di San Lorenzo al mare. Un uomo di 86 anni è morto, precipitando dal terzo piano della sua abitazione nel centro storico del paese. Per cercare di salvare la vita all'anziano si sono mobilitate i 118 ambulanze, i ricottoli dei vigili del fuoco. I medici hanno cercato di rianimarlo nella speranza di poterlo imbarcare sul mezzo aereo e trasferirlo a Santa Corona di Pietraligure, ma dopo un'ora di tentativi purtroppo non è rimasto altro da fare che constatare il suo decesso. I carabinieri stanno ora compiendo alcuni accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti e comprendere se la caduta sia dovuta al fatto che l'uomo si sia sporto dal balcone per fare alcuni lavori sulla ringhiera dello stesso o se le cause siano altre. In ogni caso la tragedia ha scosso il piccolo borgo, in questo periodo anche affollato di turisti.